Ciao Gianroberto, voglio salutarti con poche semplici parole. Ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio, co-fondatore del Movimento 5 Stelle. Ricordarlo così però mi sembra alquanto riduttivo, perché è molto riduttivo ricordare una persona per ciò che ha fatto o ciò che è riuscito a fare. Credo invece sia molto bello, importante, stimolante ricordare una persona per ciò che è stata e per ciò che deve sempre continuare a essere, a vivere. Nel nostro interno. Gianroberto Casaleggio, lo ricorda anche un post che ho pubblicato sulla mia pagina Facebook di Come, lo ricorda Dario Fa, un post molto bello, era una persona informata, documentata, leggeva molto e aveva un sogno nel cassetto, cambiare questa società. Ci ha provato e qualcosa è riuscito a fare. È riuscito a far partire un movimento fatto da cittadini, un movimento che si contraddistingue da un partito, un movimento che invoglia e coinvolge tutti coloro che hanno voglia di informarsi e di provarci, di provare a cambiare, di provare a fare qualcosa di nuovo, di provare quantomeno a vedere se esiste la possibilità di percorrere altre strade. Gianroberto Casaleggio, io voglio ricordarmelo così. Colui che ha provato, colui che ha gettato un nuovo seme che ora sta a noi far germogliare, ora sta a noi farlo crescere. Lui ha messo a disposizione il proprio intuito, le proprie capacità, la propria esperienza di vita, la propria volontà per cercare nel suo piccolo e sicuramente in questi ultimi suoi anni non facili di rinnovare il modo di pensare delle persone, il modo di interpretare la politica, il modo diverso di vederci come società, come individui comuni. Il mondo non è mai cambiato per coloro che come pecore stordite seguono continuamente il greggio. Il mondo non è mai cambiato grazie agli abitudinari. Il mondo è cambiato, cambia, si evolve grazie a coloro che introducono sempre qualcosa di nuovo e di migliorativo. Introdurre qualcosa di nuovo e di migliorativo costa fatica, costa sacrificio. Ci sono molti ostacoli quando esci dal percorso tradizionale, dal percorso obbligato, dal percorso di massa ipnotica e ignorante per cercare di coltivare qualcosa di nuovo, di costruire qualcosa di nuovo. Ci sono molti ostacoli e il mondo evolve e cambia grazie a queste persone che non hanno paura di questi ostacoli, che vanno avanti portando le loro idee, le loro capacità, le loro esperienze condividendole e soprattutto che si azzardano a mettere in atto un cambiamento. Il pensiero comune, il pensiero di massa, non ha sempre ragione. occorre che vi sia il pensiero a rivoluzionario, il pensiero che pensa fuori dal coro, il pensiero positivo che ti sollecita, che ti sprona ad andare avanti e che ti dice che c'è la possibilità di cambiare. non te lo dice a parole, te lo dimostra. Gianroberto l'ha dimostrato, ha dimostrato di non farlo solo a parole. L'ha dimostrato non solo perché è cofondatore del Movimento 5 Stelle, l'ha dimostrato per chi l'ha potuto seguire, per chi ci ha potuto parlare, per chi lo ha potuto in qualche modo leggere, l'ha dimostrato con le sue capacità, con la capacità del suo sapere, ma non solo, con la capacità della sua voglia, della sua sete di sapere, della sua continua voglia di documentarsi, di evolvere, di capire, di ricercare, di scoprire. E queste sono le persone che non moriranno mai. Io non so se qualcun altro all'interno del Movimento 5 Stelle ora avrà le sue capacità. Io mi auguro però che questo seme, questa voglia, che lui è riuscita a innestare in molte anime, non muoia. Ma continui a vivere, a esistere dentro di noi. E Gianroberto mi auguro che continui a vivere dentro di noi. Non significa che ognuno di noi sia chiamato a fare chissà quali grandi cose o a compiere chissà quali gesti eroici. Assolutamente no! A volte basta poco. Ci hanno ipnotizzato, ci hanno insegnato che le nostre piccole azioni tanto non contano nulla. Ma le nostre piccole azioni contano e come? Non ci impedirebbero di farle. Se ci impediscono di farle è perché contano. L'insegnare le persone a documentarsi è già un ottimo lavoro. Lo spendere una buona parola con chi ha bisogno è già un ottimo lavoro. L'infondere fiducia nell'individuo è già un ottimo lavoro. Non lasciare le persone sole e disanimate è già un ottimo lavoro. Aiutare le persone a uscire dall'ipnosi di massa è già un ottimo lavoro. Quindi si possono fare anche solo con le parole, anche solo con qualche piccolo gesto, anche solo divulgando il proprio sapere o chiedendo ciò che non si sa uscendo dalla forma del giudizio e del credere di sapere tutto facendo già questo si possono compiere credetemi, opere miracolose di grande cambiamento. Oggi perché ci troviamo di fronte a una società parzialmente morta? Perché ci viene sostanzialmente inculcato un percorso e noi siamo incanalati a questo percorso e arriviamo ad un certo punto di questo percorso dove siamo convinti di sapere tutto, dove siamo convinti di non poter andare oltre e dove siamo convinti che tanto il nostro sapere o non sapere non possa cambiare le cose. Quindi viene uccisa la nostra persona ancora prima del nostro corpo, del nostro fisico. Oggi non andiamo in profondità dell'anima. non serve. E invece la nostra persona quindi a volte muore molto prima del nostro fisico. E invece questo non deve succedere. La nostra persona deve vivere sempre, anche dopo il nostro fisico. E se noi portiamo avanti ciò che Gianroberto ha seminato, Gianroberto sarà una di quelle persone che continuerà a vivere sempre e comunque al di fuori del proprio corpo, del proprio fisico. Ma possiamo essere tutti con noi, tutti come lui, scusate, possiamo essere tutti come lui, nessuno è escluso. Per farlo, ripeto, basta poco. Basta non essere delle semplici pecore che continuano a belare, che quotidianamente fanno il loro lavoro come lo fanno i buoi o i cavalli, tirando il carro, non chiedendosi mai il perché e il per come, non chiedendosi mai se ciò che fanno, ciò che vedono, ciò che sentono sia giusto o sbagliato. caro Gianroberto, ora sei in un'altra dimensione, ma sei ancora con noi. Io ti chiedo solo di continuare ad aiutarci, di continuare a diffondere la tua voglia di cambiamento, la tua voglia di sapere, il tuo desiderio di cambiare. Io sono fiducioso nell'essere umano, sono fiducioso perché nonostante oggi ci sia una società per la maggior parte sotto ipnosi di massa, vi sono anche tante persone e sono in numero crescente, anche se non ve lo fanno notare che si stanno risvegliando da questa ipnosi di massa, che stanno iniziando a capire, a comprendere la necessità di cambiare e stanno iniziando a scoprire quanto sia meravigliosamente bello cambiare, a ritrovare il gusto nello scoprire che è una piccola azione, un piccolo impegno, una parola buona detta a una persona bisognosa possa far star meglio e possa aprire un sacco di porte. Gian Roberto questo ce l'ha insegnato molto bene e noi credo che ne dobbiamo essere grati e dobbiamo continuare a farlo vivere. Non, ripeto, limitando il nostro ricordo a colui che fu il co-fondatore del Movimento 5 Stelle, ma alimentando la nostra voglia di ricercare, di cambiare, di scoprire, di evolvere grazie al suo esempio, grazie al ricordo della sua sete di conoscenza, di sapere, di capire, di voler migliorare il paese in cui lui viveva, di voler migliorare e di voler ridare fiducia alla persona umana come individuo partecipante e non come numero, come oggetto, come ci considera oggi la nostra società. Grazie Gian Roberto, hai dato tanto anche a me e ti voglio ricordare così con questo semplice video e ti voglio dire che non ti dimenticherò ti penserò ogni qualvolta mi troverò di fronte al dover divulgare determinate cose ti penserò ogni qualvolta mi metterò a ricercare qualcosa di nuovo lo farò con il mio spirito certo che non è uguale al tuo perché ognuno di noi ha il proprio ma lo farò pensando a te regalandoti un sorriso e dicendoti ci sto provando anch'io non sei solo ciao Gian Roberto e grazie per tutto quello che ci hai dato e per tutto quello che ci darai perché sono sicuro che in qualche modo anche dall'altra dimensione ci parlerai ancora